L'anno scorso, che era stato un anno molto positivo per me, volevo un attimo staccare da tutto e comunque esaminare quello che avevo fatto in campionato e quello che era stato l'anno per me, che comunque era stato un anno molto complicato, soprattutto a livello di squadra. Poi in estate, con tutta la calma del mondo, piano piano, ho scelto secondo me la squadra migliore in questo momento per me, che mi poteva far crescere, che mi può comunque aiutare nel mio percorso che sto facendo. Ho sentito il direttore, il mister, è stato subito comunque per me amore a prima vista, diciamo, e secondo me è la scelta più giusta e secondo me ha dimostrato il fatto di questi primi giorni che sono stati molto importanti per me e sono molto contento di essere qua. Sicuramente quello che voglio dare, per cui sono andato qua, è aiutare la squadra in ogni modo a fare qualcosa di importante. Poi che sia attraverso i gol o gli assist, conta, ma sono arrivato anche qui secondo me per aiutare la squadra anche in fase di non possesso, per diventare comunque un giocatore a 360 gradi, che è la cosa che vuole il mister, quindi non solo qualità ma anche comunque sacrificarsi per la squadra e aiutarla comunque a vincere le partite. Mi aspetto ovviamente di fare più gol possibili per rendere felici tutti, in primis a me stesso e poi a tutta la squadra. Speriamo quindi che comunque ci sia sempre tanta gente al picco che ci aiutano e di regalargli comunque tante gioie e tante vittorie.